Io abito a Gran Boschè, quindi conosco i progetti di riqualificazione, ma ho appena scoperto che sono cambiati. E le nuove abitazioni non potranno accogliere le famiglie numerose. Non saprei che dirle, ma il comune sta facendo del suo meglio per riqualificare il quartiere. Ma questo non è vero. Ci sono quartieri che non hai mai visto. Sai che significa fare il sindaco in questa città? A che serve ricostruire un intero quartiere per ritrovarsi con gli stessi identici problemi? Di che parliamo? Di sanità, scolarizzazione, sicurezza o di diritti delle donne? Di che parliamo? Parliamo di persone che causano problemi. Qui c'è la più alta concentrazione di stranieri del dipartimento e il record di criminalità. Non te ne sei accorta? Attenti. Ci è capitata un'occasione d'oro. Sono anni che proviamo a strattare questa gente. Non li sfratterò il giorno di Natale. È il suo modo di usare la polizia? È incomiabile, ma è inutile. Tanto resteremo sempre e comunque la feccia della società. Non si può essere solo arrabbiati. Non si può. Se siamo stufi di essere governati sempre dagli stessi, sta a noi agire. E tu come ti definiresti? Una donna francese di oggi.